questo è la sua youtube si è detto ma fa forse mamma mia ma ma passaggi no l'altra parte santo vai dai santissimo santissimo non è una bella cosa facci lecca ma che è a pezzi è partita ciao 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 Vai sento, gottici! Dai, una, due, uno! Non mando la roca, è meglio! Dai, due, uno! Noi, mamma c'è ancora qui? No, di quello scherma! Dai, dai, avanti mi ho casato, Damiana! Oh, dai, di quello scherma! Mia, fai schermare! Ma quello è da buttare schermare, vero? No, allora la rimaniamo! No, la scherma, c'è un'altra metina! E' quarantina vince! E' quarantina molto accresiva! E' quarantina molto accresiva! Stefano, con cazzana! Non ci chiamo Stefano, come si chiama? Stefano! È Giacomo! È Giacomo! E invece si chiama Giappe, non è il suo fratello. Ecco il fascista di merda, qualcuno fa morire.